Ciao ragazzi, mio nome è Antonio Tullio, sono 30 anni. Questo video è per la competizione sport sport in online da Mexico. La mia competizione è 5 minuti. Prima di iniziare la mia competizione, vado a controllare il peso del caldo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.